Lei di cosa si occupa? Io vorrei fare l'attore Anche lei come Antonio? Sì, infatti ci siamo conosciuti facendo un musical Hai fatto il musical? No Sì, però non è che cantavo era una parte piccolissima Anch'io ho fatto una parte in quel musical Adoro cantare Perché non le piace il musical? No No Non mi piace proprio il genere Siamo qua che parliamo Se lui salta coi polsi fasciati sul tavolo sapete, a raccontare delle antilopi cantando Antilopiii Non piace E' la versione gay del teatro Che succede? Oddio Eh no, sono Pallini Pensavo di averli tolti tutti Ce ne sono altri? No, sputi sputi Questo coniglio qua Era particolare Lo dico anche per la signorina Non è stato facile catturarlo Scusi, ma lei gli spara i conigli? No, in genere gli corro dietro Cerco di prenderli con le mani Però stavolta ho pensato risparati Per cambiare Papà Mamma Io Ho una cosa da dirvi Siamo qua E vorrei dirvela subito Perché Perché credo che sia meglio così Io sono sceso giù Vabbè, io scendo sempre a Pasqua Ma questa volta c'è un motivo in più Un motivo più importante Oddio Ho deciso Abbiamo deciso Insomma Non ne abbiamo mai parlato Magari per voi sarà uno shock Ma Noi ci vogliamo bene E abbiamo deciso di sposarci E abbiamo deciso di sposarci Bella, è uno scherzo 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 Scusate se ve l'ho detto così Non so se c'era un modo giusto per dirvelo Ma noi ci amiamo E io sono felice E se sono felice io Dovresti esserlo anche tu Roberto Roberto, tutto bene? Tu lo sapevi? Sì Perché non mi avete detto niente? Scusate, non potevate dirmi Perché non lo sapevo neanch'io Lo stavo capendo E poi non credevo Che sarebbe stato un problema È uno scherzo E poi Sì 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 Sì, è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.